Nella puntata dell'attentato, d'accordo, esplode la clinica durante la festa per la riconquista del pacchetto azionario, d'accordo, e la conseguente di partita del conte, ok? Ma io non posso morire. Stannis, come? Stannis non è morto in 15 anni di film, d'accordo? Io non sono morto nel pugnale di stoffa dove cadevo da un palazzo di 10 piani, d'accordo? Io non sono morto in paura nel vigneto, che prendevo 15 coltellate. Posso morire per favore? Posso morire nella clinica degli occhi del cuore 2? No, non posso, d'accordo? Beh, scusami tanto, non vi ho presentati. Questi sono i miei avvocati, la dottoressa Recchia e il dottor Malvisini. Molto lizzo, Diego Lopez, responsabile di rete. Che scelte, Malvisini? Io non voglio morire. Sì, ma io non capisco questa eccessiva preoccupazione. In fondo questa puntata la vedranno solo in Grecia. Io non voglio morire. E se posso dire, il tuo sarà l'ultimo personaggio che noi vedremo prima del botto. Più fiamme, dai, 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 dai con le fiamme. Io non voglio morire, io non voglio morire, Diego, io non voglio morire. Diego, Diego, Stanis non vuole morire. E non muore. Perché se Stanis non vuole morire non muore. Stanis, soprattutto mancano le risorse. Noi, con gli esterni, siamo ridotti all'osso. Probabilmente saremo costretti a utilizzare delle scene già girate. Un momento. Io non voglio che si salvino tutti. Bene, questo è bello, è molto comprensivo. Io mi salvo. Io vivo. Io. Scusa, Stanis, scusami se ti interrompo. Come fai a salvarti dopo un'esplosione simile? Scusa. Te la scrivo io. Allacce delle cinture e guardami. Ricevo una telefonata al cellulare durante la festa. Esco fuori dalla festa, sento il botto, l'esplosione, mi giro e mi salvo per un pelo. Così. È perfetta. No, scusa, forse non l'hai capito. Qui non ci sono i soldi neanche per girare la scena della festa. Ce li metto io. Ce li metto io? Ah sì? Sì. E io non la giro. Non è un problema mio, non mi riguarda. Non c'è sul copione e io non la giro. Come la mettiamo? Il suo nome è Ferretti? René Ferretti? Senti, a pezzo di merda, io vengo da Fiano Romano, capito? Come si dice? Io ti stampo la ciglina in faccia. Vieni fuori, c'ho il cric in macchina. Tu lascio vedere io come mi chiamo. Sto strusso. Sto avvocato dei miei coglioni. Mettiti a segno. Capito? Senti a te come parli. Io ti ammazzo, capito? Dio della migliorotta. Come mi chiamo. Buono, buono. Buono. Scusi signore, è che... Capito? Sto strusso. Dai, buono, dai. Dai, buono, te dico io. Faccia la cazzo. Dai, non c'è bisogno di...